Allora, diciamo che per fare il giro forse, ok, la gialla potrebbe colpire subito dopo il diamante che dice Stefano, ok, in questo caso dà anche quel prodotto a sinistra, quindi adesso posso continuare, adesso posso prendere un tiro diretto, ah, si può anche usare questa sponda, ok, se la prendevi da dietro e la metti, se la prendevi da dietro e la metti, è meglio anche poi da dopo qua, ok. Adesso puoi provarci tutto, ok, ci facciamo bene, tornare indietro con la mia mano. L'unica cosa, sì, sì, grazie, l'unica cosa è che la cia la... in questo caso è una cosa, la cia la... in questo caso è una cosa, ma non è un'altra cosa, ma non è un'altra cosa. Grazie. Grazie.